Don Roberto Piemonte, parroco di San Gregorio Magno, vicario della Forania. Questa serata a Via Bacco è un momento molto molto particolare per la comunità parlocchiare di San Gregorio Magno. Il primo di nove appuntamenti. Via Bacco è molto più nota per il grande evento di Baccanalia. L'abbiamo trasformata stasera però anche in un luogo non soltanto di festa, di svago, ma anche in un luogo di grande, spero, spiritualità. Stasera abbiamo iniziato il cammino con ben nuovi incontri su Sant'Agostino, a letture il commento delle confessioni. Stasera abbiamo fatto la serata inaugurale, la presenza del coro parrocchiale, dell'Accademia di Danza ci ha fornito anche un ulteriore modo per rendere ancora più forte questo primo grande appuntamento. I prossimi ogni 28 del mese nella Chiesa Madre di San Gregorio Magno, in un tono sicuramente meno, come dire, forte, però sempre con la formula del canto, della lettura e del commento che vuole essere un modo per avvicinare soprattutto le nuove generazioni e chi magari è lontano dai meccanismi istituzionali della fede e della Chiesa, quindi attraverso il veicolo anche della cultura, avvicinare appunto chi è lontano, chi magari avverte una difficoltà con quello che può essere il credo della nostra fede e quindi si può avvicinare ad un approccio, come dire, più culturale, più ampio, in cui risuona ancora di più la grande domanda dell'uomo, chi è Dio, chi sono io. E Agostino è proprio una sorta di paradigma di questo tipo di discorso. C'è stasera in Via Bacco un pensiero diverso, un momento diverso per San Gregorio Magno? Dicevo poco fa con il comandante dei Carabinieri siamo passati dal profano di qualche sera fa al sacro di questa sera. Ciò dimostra che le iniziative nostre a San Gregorio Magno in questa zona sono davvero a 360 gradi. si unisce l'aspetto culinario, l'aspetto legato allo spettacolo, alla tradizione, al divertimento con un aspetto, diciamo, di maggiore riflessione come quello di stasera, di un momento di riflessione, come dicevo, ma anche di un momento di grande cultura, come è solito fare il nostro Don Roberto.